La medicina psicosomatica ha ampiamente dimostrato che dietro agli studi psicosomatici ci sono problematiche emotive, ansia, stress, depressione, rabbia repressa. La psicoterapia emotica permette di andare direttamente alla radice del problema, andando a risolvere quel conflitto emotivo che determina anche l'istituto dell'oportità, invece di limitarsi semplicemente alla sua possibilità. Grazie. 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 Grazie.